A proposito di rifiuti differenziati, vi siete mai chiesti le siringhe Iaki usate a quale tipo di rifiuto vadano assimilati e come vengano smaltiti? Noi l'abbiamo fatto ed ecco il risultato. Dove smaltisce le siringhe vuote una volta che lei ha fatto un'iniezione? Nella spazzatura. Sì, ma l'altra la mette, l'altra la mette. No, basta, la spazzatura. In farmacia, dove stanno lo scaffale di bottene medicinali? Da spazzatura. Da spazzatura. Da spazzatura. La botte dell'immondizio, perché l'immondizio può andare. Dalla bottezza. Dentro come da abusin, la botte dell'immondizio. Ma è un modo di smaltimento corretto? Lo chiediamo agli esperti. Sono rifiuti pericolosi, che devono essere raccolti e smaltiti, applicando precauzioni per evitare infezioni. Quindi, raccolti e smaltiti, applicando precauzioni. Quindi voi come li smaltite? Raccoliamo nei miei contenitori speciali per i rifiuti, le siringhe nel nostro contenitore di classica e gli altri rifiuti nei contenitori in cartone. E poi la ditta serviva a prendere e gli smalti di scienza, dove, cioè, a che punto non è il problema mio. Io li raccolgo appunto nei contenitori speciali. Questo vale per le strutture sanitarie. Ma le siringhe utilizzate nelle abitazioni, come vanno smaltite? Proviamo a chiedere a chi si interessa dello smaltimento dei rifiuti della città. Viene fatto la raccolta di siringhe medicinali, o? Sì. Certo. Anche le siringhe? Sì, pure le siringhe. Pure le farmacie, sono stati i contenitori e vanno a buttare siringhe medicinali. Quindi siringhe medicinali messi nei contenitori delle farmacie. Le farmacie ne vanno a ritirare una volta al mese. E vanno? A caserta. A caserta. C'è una società specializzata che... Sì, lo mettiamo qui le farmacie scadute. Per gli specialisti in rimozione dei rifiuti, le siringhe usate possono andare nei contenitori dei farmaci scaduti. Per i farmacisti le cose non sono... Utilizza i contenitori che hanno le farmacie per i medicinali scaduti. Non può essere messo là dentro. Sono rifiuti pericolosi, è diverso dal farmacista. Sono considerati rifiuti pericolosi. Sì, gli aghi già usati, sì. E voi li smaltite? Noi in farmacia. Abbiamo proprio un contenitore per i rifiuti speciali, ma per le autoanalisi che facciamo in farmacia esclusivamente per qui. E nelle abitazioni? Nelle abitazioni dovrebbero metterli a parte, ma mancano i contenitori farmaci. Non è mai venuto nessuno a consegnarmi agli usati da poter smaltire, anche perché poi non è una cosa che convete nulla. Dunque si tratta di rifiuti pericolosi che non possono essere smaltiti insieme ai farmaci scaduti. Ma quante siringhe utilizzate si consumano ogni mese? Statisticamente in un mese potrebbe essere, intorno ai 7-800. Dunque parliamo di una media di 600 siringhe raghi usate. Considerando che ad Aversa ci sono 14 farmacie, il numero complessivo sale a 9000. 9000 siringhe raghi usate, considerate per legge rifiuti pericolosi da smaltire in maniera particolare, che invece vengono smaltiti in gran parte tra i rifiuti ordinari, creando un problema che non è solo di Aversa. Come risolverlo? Basterebbe installare in città dei contenitori destinati a ricevere siringhe da usare.